pvc disse che banca si gioca in triestina il recupero della prima giornata del torneo clausura creanza destro potente e bravissimo a terra mancino cerca la linea di fondo la trova palla dentro e va col tacco fuori di pochissimo uno a zero che banca tirinato bravo anche calcio d'angolo per pvc palla dentro palla in qualche modo passa attenzione poi è fissa segola salvare bellissima la girata di soldano 1 a 1 gran giocata del numero 17 di pvc giocata centrale su ferino che prova a liberare il desto ci riesce va a calciare in due tempi ed arriva il 2 a 1 di pizzo lante indeciso salis sulla funzione di ferino calcio di punizione creanza sul pallone il capitano va bravo muzzi di alzare sopra la traversa direttore di gara parte tontini destro secco potente centrale l'area spinge in due tempi salis bravissimo a dire di no alta pressione di perino e per poco non arriva al tris soldano scarica per ramello destro potente da terra la palla non esce di tantissimo tontini buona la palla per talato messa dentro tontini e 3 a 1 che banca con la combinazione talato tontini attenzione a due contro uno soldano apre per morozzi attento bravissimo in uscita muzzi a terra ma la lunga per selva perfetto la mette giù poi si poi riesce però a far passare la palla vince il contratto solda mette dentro ed è di chicchi che riapre in qualche modo i conti 4 a 2 creanza sul pallone ultima delle ultime occasioni molle di gano dalla barriera allora ancora di chicchi finisce qui vince che banca 4 a 2 e mantiene il passo della festa siamo con alberto tontini allora come detto ai tuoi compagni dovevi scaldarti in ufficio se hai partito piano poi però quando è carburato la differenza rifanno eh sì sono sono andato tardi è bloccato una riunione che scaldato a minuti a partita iniziata però dai poi abbiamo carburato abbiamo iniziato a fare il gioco abbiamo perso il conto dei falli subiti e dei palloni giocati è il tuo standard immagino sei lì in mezzo passa tutto da te nel bene nel male il bello il brutto di fare l'intermediario in mezzo al tanto come prestazione della squadra avete siete partiti recentemente poi avete un pochettino sofferto nel secondo tempo tanto equilibrio poi siete riusciti a sbloccarla anche in merito prima no sì dai detto come siamo partiti siamo partiti piano però dopo se carburiamo e arriviamo a fare il nostro gioco cioè i risultati poi si vedono ultima domanda obiettivo di questo campionato di progettura di che basta quale può essere vincere sono andati vicino all'apertura ci siamo riusciti siamo rammaricati ancora con le sconfitte quindi vogliamo vincere ok grazie mille da alberto tontini l'emvp peroni di questa partita grazie ciao